A presto ho visto un film davvero bello che si chiamava The Lego Movie, davvero davvero bello! Ma hanno perduto un carattere davvero importante, Lego Venom. Questo carattere deve essere nel secondo film, perché può essere davvero davvero importante. Può aiutare il protagonista. E ci sono altre cose in cui... Eh? Ehm... E noi... E' Luciano. Sei il protagonista, certo? Ok, devi chiedere il direttore se può me inserire nel prossimo film, perché posso essere davvero importante per la storia. Ok, se voglio, posso dare te il mio numero. È questo... Qu-qu-qu-ah! Why guys?